Andare, 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 andare! Andare, 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 muoversi è una strategia esistenziale, non soltanto per procacciarsi le risorse, ma anche per diletto, per piacere. La mobilità e la motilità sono necessarie, sono importanti. Andare all'avventura, ad-ventura, verso le cose che dovranno venire. La strategia della cozza però è diversa. La cozza sta, resta, si lascia permeare dalle correnti, dai flussi, ne riceve nutrimento, filtra, filtra le acque inquinate, filtra le informazioni.